Buon sabato a tutti! Oggi è il 27 aprile, sono le 10.50 e torniamo a parlare di cicli superiori sugli indici e vedremo anche se sulle crypto. Che cosa ci raccontiamo? Partiamo come di consueto dall'S&P 500, l'indice che ha sempre guidato gli altri insieme al Nasdaq e vediamo che cosa avevo fatto a livello di previsione lo scorso sabato proprio. Che cosa vi raccontavo? Vi raccontavo che eravamo in attesa di un rimbalzo per capirne l'entità. Che cosa è successo? Questo è un canale dove vi traccio quello che mi aspetto prima che poi capiti e poi vediamo se tutto è corretto. E anche questa volta tutto corretto. Ci aspettavamo almeno due giorni come minimo di salita per far partire un nuovo settimanale per capire se questo mensile si era già chiuso con la condizione necessaria e sufficiente fatto oppure no. E per adesso che cosa abbiamo? Abbiamo persino i giorni che ci dicono che può partire un nuovo bisettimanale. Un T1 è un bisettimanale. Guardate sempre qui la leggenda. Quindi tutto corretto a livello di previsione e questo è un canale in cui ci si espone. Quanti altri canali in Italia trovate dove vi viene tracciata la rotta, vi viene dato il tempo ed un eventuale target poi raggiunto? In quanti altri canali trovate informazioni gratuite che poi vanno a target e quindi sono preziose? In quanti altri invece si parla di tante possibilità di livelli di rimbalzo ma non sappiamo se rimbalzeremo perché però potrebbe arrivare un dato, ci sarà un'opinione o altre cose, ma non si fa quello che faccio io qui. Qui tra l'altro dove siamo? Sul primo canale in Italia che parla di analisi cicliche e poi di analisi evoluta. Con oltre 16.500 iscritti, iscritti che cercano questo, cercano poca fuffa, poche chiacchiere, poche opinioni, anzi nessuna in realtà e un analista che sappia il fatto suo e che lo dimostri tutti i giorni durante tutte le analisi. In ogni caso, torniamo a noi. Qui, fatto il target e vista il movimento che dovevamo fare, che potevamo fare, tutto corretto quindi la precedente analisi, adesso facciamo appunto la situazione però, perché? Perché da qui a qui siamo arrivati appunto a 119 giorni, ovvero una durata intermedia di un semestrale. Che cosa succede quando chiude un ciclo semestrale? E tra l'altro chiude con tutti i crismi. Capita che parte un nuovo? Ecco, quando faccio questo genere di domanda, mediamente chi ha iniziato da poco a studiare l'analisi ciclica per passare all'evoluta, non riesce immediatamente a dare una risposta, si blocca. Per cui suggerisco a chi si è bloccato di fare un salto sul sito www.analisievoluta.com, l'unico sito ufficiale dell'analisi evoluta, e andare a richiedere gli appunti di analisi ciclica di base gratuiti, cliccando su questo tasto. Tutto gratuito, non facciamo niente con i vostri dati, rimane tutto direttamente protetto dalla GDPR, ok? E potete anche scegliere per carità di entrare nel gruppo premium. Ha ognuno la sua scelta in base ai suoi obiettivi. In ogni caso, se aveste già in mente che cose raccontano queste dispense, sapreste che ci sono due cose che possono iniziare dopo la chiusura o la condizione necessaria e sufficiente per chiudere un semestrale, ok? Ho un nuovo semestrale con molta spinta, ma adesso non abbiamo né swing né tempo per dar vita a un nuovo semestrale, perché per fare iniziare un nuovo semestrale ci vuole un sottociclo di due gradi inferiori, quindi T più 4 meno due sottocicli, T più 2, un mensile, 24 barre sopra un minimo, noi siamo a 5. Questa è la prima opzione, la più semplice di tutte, parte un nuovo semestrale, spinta, rialzo e potenzialità di ritornare qui sopra. La seconda è che invece si forma quella cosa infida che serve a fare male ai trader che si chiama raccordo. In questo caso noi però sappiamo che un raccordo che è semplicemente una finta, finta rialzo con ribasso e ritorno verso questi livelli, ha comunque le sue regole, è normata anche questa dalle regole e quindi tra un semestrale e un semestrale tra un T più 4 e un T più 4, l'unico raccordo che ci può essere è di grado T più 1, 3 gradi inferiori. T più 1 è un bisettimanale che va da 12 giorni a 21, quindi sappiamo che cosa può succedere se non iniziasse un nuovo semestrale iniziando prima di tutto a superare questo livello della media mobile che adesso da supporto è diventata, neanche supporto, da ascensore è diventata resistenza e andando fuori dall'acumo. Se già iniziassimo a fuoriuscire, fantastico, molta buona potenzialità per andare a fare appunto un nuovo ciclo semestrale. Se invece iniziassimo a fare fatica e a ritornare su uno stessi sappiamo che o chiusura semplicemente ancora di mensile di semestrale che poi va fino a 168 giorni e siamo a 124 oppure raccordo come dicevamo se non è zuppa e pambagnato comunque torneremo giù in entrambi i casi. Come faremo a sapere a questo punto se continueremo a salire oppure no? A parte ovviamente osservare il discorso della media mobile che vi ho fatto lo faremo con l'inverso e vedo che ci sono ancora analisti ciclici che non utilizzano l'inverso che è semplicemente fondamentale come strumento per comprendere meglio le cose insieme ai volumi insieme a GAN insieme a tantissime altre cose indicatori che si possono utilizzare e diciamo novità che ci sono e che noi stiamo testando con buoni frutti grazie al T3 che ci ha portato a fare alti guadagni la scorsa settimana noi di inverso siamo arrivati a 20 bar 20 giorni sappiamo che un mensile e qui altro che mensile può partire molto di più rispetto a un mensile può durare minimo 24 bar eccetera eccetera scomponiamolo ok facciamo anche poi un'altra cosa ma dopo scomponiamolo in settimanali da questo massimo a questo massimo abbiamo fatto 9 scusate 9 barre di primo settimanale inverso facciamolo disegniamolo così ok da questo in avanti o abbiamo fatto 11 giorni e scenderemo oppure l'ipotesi che mi do per una ripartenza qual è che abbiamo fatto 8 giorni da questo massimo è partito un nuovo settimanale inverso che si è già vincolato a salire essendo in terza barra su minimo 6 di durata di un settimanale inverso possiamo a onde a onde salire per minimo altri 3 giorni massimo 8 giorni capite quindi qual è la razio è molto semplice con l'analisi evoluta non ci sono parti pindarici opinioni e tutto quello che volete basta semplicemente andare a controllare e dire ok se torneremo a superare questo massimo per altri due giorni non potremo avere neanche raccordi e quindi continueremo a salire se invece purtroppo inizieremo a trovare difficoltà a superare la media mobile non riusciremo ad andare sopra il livello superiore della cumo rischiamo raccordi e quindi un ritorno verso questi livelli A o B ed è talmente semplice rispetto a quella che può essere una proiezione fatta da qualsiasi altro malamente che noi abbiamo il tempo gli altri non vi sanno dire in quanto tempo si può tornare e il tempo esclude delle possibilità se noi iniziassimo semplicemente a tirare dritto per altri tre giorni e già iniziare a superare dopo il primo giorno questo massimo o abbiamo un raccordo ma martedì sapremo immediatamente se è un raccordo oppure no oppure semplicemente possiamo continuare a salire per tot tempo massimo otto giorni in media cinque giorni minimo altri tre giorni a onde e appena c'è qualcosa che non funziona lo identifichiamo con uno swing o altro quindi queste per chi ha studiato per chi ha fatto magari anche il videocorso su trading days sono informazioni d'oro che dicono chiaramente qual è l'aspettativa se superiamo questi livelli e continuiamo questo settimanale inverso possiamo continuare a salire appunto per i giorni che vi ho detto e possiamo ritornare verso i massimi diversamente se iniziamo a fare fatica a salire e iniziamo a fare anche solo due giorni di discesa all'arme rosso raccordo semplice estremamente semplice come vedete ricordiamoci sempre che tra l'altro un annuale inverso arrivato a 309 giorni può arrivare fino a 336 quindi potremmo avere 27 giorni ancora al massimo di salita e 27 più 5 fa 32 32 è un ciclo mensile che lancia un ciclo semestrale se non avete capito bene questo passaggio riascoltatelo tutte queste analisi soprattutto se siete all'inizio riascoltatele sono semplicemente fondamentali per andare avanti nella comprensione di come si muovono in maniera statistica o matematica i mercati perché i mercati sono regolati dalle cosiddette mani forti che sono algoritmi ormai che sono HFT e Frequency Training lo sentite ancora ne sentite parlare ancora poco in tanti video fortunatamente li ho scoperti tanti anni fa hanno iniziato a funzionare dopo gli anni 2000 e grazie a questo noi facciamo analisi corrette e andiamo a target e possiamo permetterci di mettere frecce esattamente dove ci aspettiamo che possa andare il mercato e poi nella maggior parte delle volte se non ci sono raccordi ci si va e purtroppo di raccordi iniziano ad essercene veramente tanti vi faccio vedere anche il grafico con le candele a 15 minuti per fare trading sui cicli giornalieri controlliamo che ci sia il tempo almeno per far partire un nuovo T inverso e a noi bastano 48 bar un T-2 inverso laterale anche soltanto per far iniziare un nuovo settimanale inverso ne abbiamo 53 quindi qui abbiamo il tempo per la partenza di un nuovo T inverso ok lo swing lo dirò nel gruppo premium se ce l'abbiamo oppure no quindi vi lascio anche questa informazione direi che è tutto se avete piacere di venirmi a trovare all'evento di Swissquote al trading day che ci sarà il 4 di maggio bisogna registrarsi al form che c'è direttamente appunto sul sito Swissquote per far parte del gruppo di persone che appunto assisteranno a questo evento con tanti altri trader in gamba e che anch'io voglia di ascoltare in modo da poter comprendere meglio le loro tecniche magari unirle alla mia evoluta che è già un'evoluzione di tante altre cose e quindi non vedo l'ora di vedervi anche se avrete piacere e tempo a Lugano per fare 4 chiacchiere e ragionare appunto sempre di cicli vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata la mia lo sarà sicuramente perché la prima analisi è fatta andiamo avanti arrivederci